E' questa lettera consegnata dai vigili urbani con richiesta che fosse controfirmata ad aver gettato nel panico molte famiglie del quartiere San Paolo. Dopo un'introduzione che fa riferimento a norme di legge esordisce così. La sua abitazione risulta ubicata nei pressi della ditta Bravi Trasporti Logistici, la cui attività, si legge sei righe sotto le rassicurazioni su tutte le misure di sicurezza che rispetta, consiste nell'immagazzinamento di fitofarmaci, sostanze etichettate molto tossiche, tossiche o molto tossiche per l'ambiente. Ma è l'elenco della serie di misure da adottare in caso malaugurato di un incendio ad aver terrorizzato soprattutto anziani e famiglie. Quando sentite la sirena è scritto chiudete ermeticamente porte e finestre, ostruite canne fumari e camini, preparate un panno bagnato da mettere su naso e bocca, non usate cellulare o il telefono, non andate a prendere i vostri figli a scuola e via così. Si tratta solo di rispettare una legge che impone i sindaci responsabili della protezione civile di informare la popolazione sui rischi, ha cercato di spiegare l'assessore Maugeri nel corso di un incontro convocato in circoscrizione per tentare di porre riparo a quello che ha definito, scusandosi, un errore nella comunicazione. Ma gli animi al San Paolo sono ormai surriscaldati e le rassicurazioni non bastano. Ma non ci tranquillizza assolutamente perché bisognerà vedere, dovranno risponderci tutti gli enti preposti sul territorio e non solo quello regionale ma a livello nazionale e forse anche internazionale. Intanto lettere simili sono in partenza anche per i quartieri San Girolamo e Fesca, vicini in linea d'aria allo stesso stabilimento.